Ehi! Parti! Cosa? T'ho detto parti! Che cos'è questo? Un sequestro? Lei le rimorchia sempre così le donne? Con quelle... Metti in moto! Posso almeno sapere la direzione? Dove hai attenzione di violentarmi? Dentro o fuori? Nessuno ti toccherà se collaborerai. Adesso basta parlare, parti e sta calma. Guardi, io me ne stavo per i fatti miei. Ho l'obbio della fotografia e faccio mille scatti al giorno. Fotografo di tutto. Chiese, monumenti, strade. E persone. Preferisco i paesaggi. Controlleremo. E se non c'entri niente, ti lasceremo andare. Volta a destra adesso. A destra qui? Sì, qui. E se non c'entri niente. E se non c'entri niente. E se non c'entri niente. Aprite, vi prego, aprite. Aiutatemi. Aprite. Aprite, vi prego. Aprite. Aprite. Aprite, vi prego. Aprite. 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 Labite. Aprite. Aprite. Radi. atom. Grazie a tutti.